deviato in calcio d'angolo mi pare deviato dal portiere il primo tiro in porta della Virtus Castelfrentano che gioca con la divisa bianca con risvolti giallorossi pantaloncini sempre bianchi calzettoni gialli colpo di testa rete rete nonostante nonostante che il portiere ci è arrivato il pallone la rete ad opera di Gabriele Donofrio il nostro capitano numero 6 1 a 0 risultato parziale in questo primo tempo bravo 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 dai 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 su accetto il campo su